ma cara cosa stai facendo ciao rocco avevo sete così ho trovato questi disprojector per bere ma sono diverse dalle cannucce che mi ricordavo queste sono sì cannucce ma per aspirare la saliva guarda ti spiego come funzionano vedi all'interno c'è un filo di ferro che permette alle cannucce di pigarsi in base all'esigenza ma al tempo stesso sono fatti in modo che il flusso di liquido non si blocchi vedi ci sono di tanti colori e sono trasparenti così ogni dentista sa che all'interno sono pulite e puoi scegliere anche fra diversi cappucci in base alle necessità praticamente un prodotto eccellente o rocco sei così intelligente sarai ora ad ascoltarti per così poco bambina ma dimmi cosa ne pensi del big bang li conosco mi sono spaccata ieri sera al loro concerto vieni cara andiamo a proposito di musica lo sapevi che rilascia dopamina nel cerebrum lo stimolo dovuto a quest'elemento dipende di musica